Dunque, vediamo adesso la risoluzione delle equazioni lineari del primo ordine, equazioni differenziali lineari del primo ordine. Intanto, che cos'è e cosa intendiamo per equazione differenziale lineare del primo ordine? Beh, è un'equazione che si può scrivere in forma normale in questo modo, y' uguale un certo coefficiente che può dipendere da x per y più un altro coefficiente, il termine noto che sempre però può dipendere da x, questi possono essere polinomi in x, possono essere valori costanti oppure valori che dipendono da x, quindi la linearità è intesa in termini di y, non abbiamo termini al quadrato, mentre in termini di x possiamo anche avere termini al quadrato, nel senso che y' meno x alla seconda y più 3 uguale a 0 sarà un'equazione differenziale del lineare del primo ordine, come anche y' più xy meno 2x alla seconda, d'accordo? Portando, lasciando il termine con y' a sinistra otteniamo qualcosa di questa forma qui, quindi lineare è inteso per y. Di nuovo, sempre terminologia per poi poter risolvere le equazioni. se b di x è uguale a 0 parleremo di un'equazione omogenea, se invece b di x è diverso da 0 parleremo di un'equazione completa. Perché faccio questa distinzione tra omogenee e complete? Perché le omogenee sono più semplici da risolvere. E lo vediamo subito. Un'equazione differenziale omogenea sarà dunque scrivibile in questa forma. E questa è un'equazione alle variabili separabili di quelle che abbiamo già studiato nella lezione precedente. Dunque possiamo risolverla separando le variabili. y' fratto y uguale a x. A questo punto possiamo integrare y' dx su y uguale l'integrale a x dx. Dunque, scusate. eccoci qua. Dunque, dy su y uguale l'integrale di a x in dx. Dunque, che cosa abbiamo? Abbiamo il logaritmo naturale del modulo di y più c uguale l'integrale di a x in dx. Adesso possiamo isolare la y. Dunque, il logaritmo del modulo di y è uguale l'integrale di a x in dx meno c. dunque y uguale a e alla c meno c più l'integrale di a x dx. Ecco allora che y è e alla meno c per e alla integrale di a x in dx. Quindi questa è una costante k volte e alla integrale di a x in dx. se chiamiamo a grande di a x la primitiva di a x dx, solo per comodità, per k volte e alla a grande x dx. eh no, scusate, a grande x. Bene, verifichiamo che questa è soluzione dell'equazione differenziale. Dunque, y uguale k volte e alla a grande x. E vogliamo vedere a che cosa è uguale y primo. y prima e k volte e alla a grande x moltiplicato per la derivata di a grande, ovvero e k volte a x per a piccola... eh... quanti errori? e alla a x moltiplicato per a piccolo di x. Questo non è nient'altro che y, dunque vedete y per a x, che è la nostra equazione differenziale di partenza. se l'equazione invece non è omogenea, dunque y primo uguale a x y più b x, come si risolve? Si parte da y uguale k e alla a x. Cioè, si parte dalla soluzione dell'omogenea associata. y uguale a x per y primo uguale a x per y è detta l'omogenea associata. Si parte da questa e si considera y uguale non un valore costante, ma come se k fosse una funzione. Questo procedimento è dovuto a Lagrange. Si parla di metodo di variazione delle costanti. perché risolvo l'omogenea associata e poi considero la costante come se fosse una funzione. Oppure, appunto, metodo di Lagrange. Dunque, y uguale a x y più b x si parte da y uguale k x e alla a grande x dove la grande x è una primitiva di a piccolo. Dunque, vado a derivare y primo a che cosa è uguale? a k primo x e alla a x più k x per la derivata quindi e alla a x per la derivata di e grande che è a piccolo. D'accordo? Dunque, a questo punto sostituisco nell'equazione differenziale di partenza questa espressione e avrò k primo x e alla a x più k x e alla a x a piccolo x uguale a x per y quindi k x e alla a x più più b x più b x dunque vedete che questo termine e questo termine si elidono e dunque ottengo che b x deve essere uguale a k primo per e alla a x e dunque e dunque k primo deve essere uguale a b di x per e alla meno a x abbiamo ottenuto quindi vedete un'equazione differenziale nell'incognita k del tipo y primo uguale una funzione di x in questo modo possiamo trovarci k perché k allora sarà la primitiva di b x e alla meno a x quindi x beh più c dunque se k è di questa forma allora y uguale k x e alla a x è soluzione della nostra equazione dunque y uguale e alla a x che moltiplica l'integrale di b di x e alla meno a x più c è soluzione di y primo uguale a x y più b x questo è quindi l'integrale generale perché abbiamo la costante espresso in forma così indipendente da chi siano a x e b x della nostra equazione differenziale dunque ogni qualvolta ci ritroviamo di fronte all'equazione differenziale a un'equazione differenziale lineare possiamo possiamo ripetere il procedimento quindi risolvo l'omogenea associata e poi k diventa kx metodo di variazione quindi sostituisco trovo la derivata la derivata la sostituisco k con kx a questo punto faccio la derivata la inserisco nell'equazione originaria trovo una condizione per k' e con la condizione per k' ricavo quanto deve valere k oppure mi ricordo l'integrale generale che abbiamo detto essere e alla primitiva di a piccolo che moltiplica primitiva di e alla meno a grande più c che è quello che abbiamo scritto precedentemente d'accordo dunque a questo punto possiamo fare un esempio prendiamo pure l'esempio del vostro libro y' più y su x uguale a x con x maggiore di 0 poi proviamo non a non applicare la formula ma a utilizzare il metodo di variazione delle costanti perché come al solito se ci ricordiamo l'algoritmo o un metodo ci sarà più facile risolverle mentre se ci impariamo la formula memoria ce la ricorderemo una settimana e dopodiché ce la saremo dimenticata quindi mi scrivo l'omogenea associata l'omogenea associata è un'equazione a variabili separabili quindi avremo y' su y uguale meno 1 su x dunque l'integrale di y su y uguale meno 1 su x dx dunque logaritmo del modulo di y più c è meno logaritmo del modulo di x dunque logaritmo del modulo di y uguale a meno c meno logaritmo del modulo di x ovvero y uguale e alla meno c meno logaritmo di x dunque e alla meno c per e alla meno logaritmo del modulo di x dunque k per 1 su modulo di x ovvero x perché abbiamo x maggiore uguale di 0 2 y uguale k x su x dunque y primo uguale a che cosa? denominatore al quadrato k primo x per x meno k x x dunque k primo x su x meno k x su x al quadrato a questo punto sostituiamo quindi al posto di y primo mettiamo k primo x su x meno k x su x quadro più y su x x k x su x quadro uguale a x questi due termini se ne vanno e dunque abbiamo k primo x uguale a x quadro ovvero k x uguale x terza terzi più c ecco allora che la nostra soluzione il nostro integrale generale da che cosa è dato? y uguale x terza terzi più c fratto x cioè per 1 su x quindi x quadro terzi più c fratto x ecco un esempio con il il metodo di di variazione di variazione delle costanti passo passo altrimenti possiamo possiamo applicare direttamente la formula la formula generale un'unica cosa su cui forse sono andato su cui forse sono andato veloce è questa questo passaggio qui da sottolineare dove è sparito il modulo di y ho preferito sorvolare su questo ci soffermiamo adesso per fare una sottolineatura che può essere anzi che è interessante che è importante dunque qui vedete abbiamo logaritmo del modulo di y uguale questo vale sempre meno c nel caso generale facciamolo col caso generale perché anche nel caso generale sono andato velocemente e ve l'ho diciamo volutamente passato questo termine qui eccolo qui quindi è a grande più a grande più a grande e qui avremo modulo di y uguale e alla meno c più a x ovvero meno c ovvero modulo di y uguale k per e alla a x il punto qual è? che siccome questo sarebbe y uguale più o meno k e alla a x a questo punto noi possiamo dire che assumiamo come k una qualsiasi costante reale e dunque non ci serve scrivere più k o meno k altrimenti per come l'abbiamo scritto precedentemente e alla meno c dovrebbe essere una costante solamente positiva invece noi facendo questo passaggio dicendo anche se avessimo solo un omogenea y uguale k e alla ax se assumiamo quel k essere un numero reale quindi poter assumere valori sia positivi che negativi stiamo assorbendo il valore assoluto di y quindi le soluzioni che abbiamo ottenuto sia per l'omogenea k e alla y valida quindi per k appartenente ad r perché assorbe il più o meno e alla meno c e beh sul passaggio successivo poi questo questa cosa sparisce perché k diventa una funzione come abbiamo già detto e c è la costante di integrazione che può essere positiva o negativa questa ecco era l'unica postilla assieme al fatto che la a grande è una primitiva di a piccolo quindi per le equazioni differenziali lineari è tutto questo è il metodo l'abbiamo visto in in teoria fatto degli esempi potete appunto scegliere se imparare la formula risolutiva che può andare bene per una o due settimane a mia opinione se invece voi imparate il procedimento lo avete poi in tasca diciamo così per sempre anche perché vedremo che questa idea risolvo l'omogene associata e poi faccio qualcos'altro tornerà anche nelle equazioni del secondo ordine che diciamo Grazie a tutti.